Musica Un cordiale saluto, buongiorno, ben ritrovati a tutti carissimi telespettatori di Fano TV sul canale 17 alle 7 e mezzo del mattino c'è la rassegna stampa in diretta, allora ben ritrovati cominciamo dal santo del giorno, vediamolo subito oggi è Santa Elisabetta d'Ungheria, religiosa, il sole è sorto alle 7.04, tramonterà alle 16.42 il cielo fotografato in questo istante dalla nostra webcam sulla pagina dell'osservatorio materiologico di Fano TV che è disponibile sul sito occhiolanotizia.it la temperatura a quest'ora del mattino è una temperatura che si aggira intorno ai 10 gradi oggi avremo cielo sereno o poco nuvoloso con temperature senza variazioni di rilievo i venti sono deboli dai quadranti occidentali, il mare sarà poco mosso domani mercoledì 18, cielo sereno o poco nuvoloso con foschie durante le ore più fredde della giornata temperature invariate, venti deboli, il mare poco mosso per giovedì 19, cielo sereno poco nuvoloso, temperature anche qui senza variazioni i venti deboli, il mare poco mosso, insomma tre giornate qui a giovedì le giornate saranno identiche mentre avremo ancora tempo stabile sulla nostra regione nella giornata di venerdì, il fine settimana vedrà un probabile peggioramento con temperature indecise diminuzioni nella giornata di domenica allora cominciamo adesso invece a leggere i giornali dalla pagina di Fano il resto del Carlino pubblica una lettera di un lettore si chiama Federico Mazzanti che è stato testimone di un pestaggio perché a un certo punto scrive Mazzanti ma non vi tolgo la sorpresa e naturalmente vi lascio al giornale quindi vi lascio la lettera che è pubblicata sul quotidiano racconta semplicemente di aver visto un tizio che malmenava una donna entrambi evidentemente disadattati e racconta quello che lui ha fatto fa alcune considerazioni, anche amare secondo me donna picchiata in strada invece sotto l'articolo l'unico che interviene è un carabiniere in congedo perché questo Federico Mazzanti è un carabiniere in congedo che racconta prima che arrivasse la pattuglia sono passati 35 minuti fa quindi delle considerazioni che potrete leggere sul giornale poi grave ciclista invece soccorso in eleambulanza un 44enne esce di strada e lo travolge è successo ieri intorno alle 16 lavori invece in corso in Piazza Giovannini siamo a Fossombrone proteste, problemi per il traffico eppure per andare in chiesa Piazza Giovannini sigillate sempre da Fossombrone i 5 Stelle sull'indagine della Procura quello che riguarda il Sindaco e il Vice che sono sotto indagine da parte della Procura di Urbino per la vicenda dell'AMP l'azienda i 5 Stelle promettono vigilanza confidano nella magistratura e denunciano che comunque vada le spese le pagherà il cittadino il ladro acrobata colpisce ancora ripulita la casa di un professionista Loreto rai dai danni di un giovane padre non dormo ormai da due notte hanno rovesciato sul letto solo i cassetti dove avevano capito che lì c'era la presenza dei gioielli sapori romi d'autunno da Fano il Codma di Rosciano rivive due domeniche con le eccellenze del territorio poi il caso di un fanese di una fanese colpita da un piombino all'ex campo d'aviazione e ancora dai quotidiani la pagina di Fano del Corriere Adriatico strada delle barche il comitato Lebrecce dice no al rinvio dare la colpa alla soprintendenza è una scusa per chi vuole boicottare la sistemazione dell'area sotto invece Minardi ha venduto il nostro ospedale Progetto Fano e Udc rilanciano le accuse con Ricci Ceriscioli imputato anche Marchegiani stampate le locandine del docufilm in cui Seri è un attore non protagonista in maggioranza solo comparse si stacca l'intonaco invece la minoranza adesso si ritrova senza aula di rappresentanza è stata una brutta sorpresa ieri mattina quella riservata ai componenti dei gruppi consigliari di Progetto Fano e Udc che condividono con il Movimento 5 Stelle un ufficio per le loro necessità amministrative all'interno della sede del comune infatti ci pioveva insomma c'era dell'acqua gravissimo un anziano travolto in bicicletta l'investimento sull'Adriatica sul posto accorre anche la moglie che abita a pochi metri dal punto in cui è accaduto l'incidente ieri siamo vicini vicini al distributore di metano in viale sulla strada statale Adriatica Sud un tamponamento a catena la circolazione va in tilt l'incidente sul ponte Metauro verso le 5.45 un furgone Ford Transit ha tamponato violentamente un Audi la quale a sua volta è stata spinta contro una golf che la precedeva da oggi tutti in fila per farsi vaccinare interessate le persone a rischio siamo sempre sul Corriere Adriatico la pagina delle Marche gli anziani gli anziani sopra i 65 anni i soggetti con patologie croniche e gli operatori sanitari dunque iniziata oggi nella regione Marche la campagna antifluenzale 2015-2016 con molti medici che aderiscono a questa iniziativa social che si chiama Io Vaccino fino al prossimo 31 dicembre oltre 250.000 dosi di vaccino sono gratuitamente disponibili presso gli ambulatori dei medici di medicina generale e i servizi vaccinali dell'Asur sono chiamate a vaccinarsi le persone a rischio gli anziani che hanno più di 65 anni i soggetti con patologie croniche e gli stessi operatori sanitari molti dei quali stanno aderendo appunto come abbiamo già detto alla campagna Io Vaccino e vedete qua ci sono tutti i vari soggetti interessati che lavorano i vari dirigenti dell'Asur e quant'altro che per rassicurare tutti quanti anche perché l'anno scorso poi c'è stato quel problema del vaccino quindi in tanti non si sono vaccinati poi però i risultati ci sono stati insomma è morta un sacco di gente quindi attenzione allora è importante vaccinarsi quindi ecco che nelle marche parte la campagna vaccinazione poi invece sulla questione del terrorismo sulla questione c'è la massima allerta anche sull'Oreto in vista del giubileo il giubileo della misericordia che partirà l'8 di dicembre c'è massima attenzione sull'Oreto dice il ministro Pinotti Alfano durante l'informativo urgente del governo sugli attentati di Parigi alla Camera il ministro dell'interno Alfano rafforzato il presidio delle forze di polizia la Basilica è considerata un obiettivo sensibile poi tornando sui fatti di casa nostra apriamo adesso il messaggero da Pesaro tre soluzioni per salvare l'alberghiero Santa Marta il sindaco Ricci presenta le idee il riadattamento del Morselli un nuovo edificio da costruire al campus oppure i container alla riunione del Consiglio Comunale erano presenti i docenti e studenti e il Movimento 5 Stelle ha protestato poi c'è l'avvertenza la protesta degli autisti di ambulanze rischiano in 88 persone ci sono 88 posti di lavoro a rischio dal 1 gennaio i trasporti sanitari passano alla Croce Rossa italiana sindacati mobilitati per i dipendenti delle ditte private e ancora sotto la pagina di Pesaro Cantiere in Via Costa settimane di disagi per viabilità e negozi rivoluzione nei comuni le fusioni salgono a 4 dopo Pesaro Urbino e Vallefoglia c'è un altro processo per unire Cartoceto Serungarina Saltara e Montemaggiore al Metauro antiterrorismo scattano i controlli c'è stato un vertice ieri in prefettura a Pesaro dopo gli attentati di Parigi più vigilanza su centri islamici e comunità di immigrati attenzione speciale per Urbino 2 e lavoratori stagionali anche le ronde della Capitaneria dei Porti di Pesaro e Fano il sindaco Ricci dice da noi non c'è nessuna criticità ma teniamo alta la guardia sarà potenziata la videosorveglianza una famiglia pesarese è stata sorpresa con la droga in macchina i carabinieri fermano un'auto con marito moglie e due figli e trovano Marihuana Ascish e Coca e c'è stato ovviamente un arresto la pagina di Fano del messaggero invece apre con il nuovo ospedale e la multiservizia la protesta è tutta contro Pesaro manifeste a lutto di progetto Fano Udc sul futuro del Santa Marta e dell'Aset sotto accusa la scelta del sito in mano alla regione e la linea del sindaco Massimo Seri che dice e continua a sostenere la opzione di Chiaruccia per la costruzione del nuovo ospedale ribatte invece Minardi solo fantasie nessuna annessione e la trattativa per il nosocomio è ancora tutta aperta del vecchio Santorelli al sindaco Seri dicono se non sa gestire la situazione faccia un passo indietro dunque chiedono le dimissioni ancora di Massimo Seri la tragedia di Cartoceto oggi Selli avrebbe compiuto 22 anni e qui la notizia è arrivata ieri sera in realtà tutti i giornali o comunque quelli che l'hanno scritto dicono ancora che non è stata decisa la data in realtà la data è stata già decisa e andiamo sul sito di Fano TV perché voglio leggere direttamente da qua questo è il nostro portale ecco è stata deciso ieri sera ci è arrivata questa informazione ieri sera e mercoledì quindi saranno domani alle 15 nella chiesa di Santa Pollinare di Lucrezia i funerali di Selena Cani la ragazza che è morta giovedì scorso dopo tre giorni di agonia all'ospedale regionale di Torrette d'Ancona per le gravi ferite riportate in un tragico tamponamento avvenuto in superstrada Selli martedì quindi oggi avrebbe compiuto 22 anni comunque noi gli auguri a Selli glieli facciamo lo stesso perché non è più qui con noi fisicamente ma c'è con lo spirito quindi auguri Selli per i tuoi 22 anni la rassegna stampa si chiude qui grazie per averla seguita noi ci vediamo domani arrivederci a Autore dei sorrisi